La ragione potrebbe essere anche perché appunto aumentano le nascite nei momenti di crisi. Questo aspetto biologico e l'aspetto culturale hanno alla base la stessa ragione, nel senso che quando si è in crisi si è più attenti a trovare fili di speranza verso un futuro. La cultura è sicuramente qualcosa che ci può guidare a superare una crisi, forse non è l'unico filo, però attorno alla proposta di Scienze Art Ambiente che nasce 13 anni fa e che è quello di trovare un dialogo tra l'arte, la scienza, la cultura umanistica. Abbiamo avuto delle risposte assolutamente interessanti e che ci hanno anche gratificato moltissimo di amici di questo festival che si sono proposti e che hanno accettato di venire anche con semplicemente un rimborso spese. Quindi in un momento di crisi riusciamo a fare molto e a crescere proprio per l'aiuto di molti. Sì, di nuovo c'è gli incontri del venerdì pomeriggio. Il venerdì pomeriggio alle 18 e cominciamo il prossimo venerdì, quindi 16, abbiamo dei dialoghi tra protagonisti della ricerca o della divulgazione scientifica. Il primo dialogo è Inattese e attese connessioni, un titolo che mi rendo conto potrebbe anche apparire abbastanza ostico. Ma è proprio nel sottotitolo che recita a 50 anni dall'uscita di un pamflet scritto da Charles Snow che si intitolava The Two Cultures, il quale Snow, che era un chimico, denunciava l'incomunicabilità culturale tra il mondo dell'umanesimo e della letteratura e invece la cultura scientifica, accusando gli scienziati di non conoscere nemmeno un verso di Shakespeare e viceversa i letterati di non avere nemmeno l'idea di quali fossero lettere rivoluzionari dei primi 50 anni del Novecento. E in questo delineava una crisi culturale, quella che negli anni 50, nel dopoguerra, era in qualche modo tangibile. A 50 anni da questa situazione è sicuramente molto cambiato, molte cose sono cambiate. C'è una maggiore attenzione del pubblico in generale, anche dei protagonisti del mondo della scienza e della cultura letteraria, ma dobbiamo ancora fare molto di più. Anche la scuola ha cambiato atteggiamento rispetto a questo, ma ancora, secondo me, abbiamo da percorrere dei lunghi sentieri. Abbiamo chiamato il direttore generale del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano con uno scrittore di Pordenone, che è Alberto Garlini, e un filosofo, che è Stefano Moriggi, a dialogare con un giornalista scientifico proprio su quali possono essere le vie di uscita e i percorsi, perché non ci sia una terza via alla cultura, ma perché la cultura sia unica. L'apparattivo molecolare è un laboratorio giocoso per festeggiare i cent'anni del futurismo, un'esperienza che ha avuto dei risvolti poco felici, ma anche molto importanti nel campo dell'arte in Italia, e abbiamo voluto festeggiarla con un'installazione e un aperitivo in cui le persone piccoli e grandi, quindi una dose di lieve alcol per i grandi e assolutamente analcolica per i bambini, costruiranno in laboratorio con delle provette un aperitivo che avrà delle consistenze strane. Non voglio svelare gli ingredienti perché poi toglierei l'attesa. Questo avverrà il 25 ottobre e domenica all'ora dell'aperitivo, quindi intorno alle 11. Sì, si può fare divulgazione della ricerca e soprattutto si possono ricercare i talenti. Molto spesso i giovani pensano che il divertimento non si coniughi con la passione per la ricerca scientifica e l'idea e lo studio. Noi abbiamo invitato una ricercatrice che si chiama Paola Dama, che lavora per Teleton, la quale si è inventata di andare nelle discoteche a raccontare ai giovani che si può fare ricerca divertendosi, naturalmente senza togliere la fatica dello studio perché un ricercatore sicuramente dedica molto del suo tempo allo studio, e divulgherà, racconterà esperienze e soprattutto farà un po' di orientamento anche. Questo il 23 ottobre venerdì alle 20.30 presso il deposito Giordani.